Musica Tutto pronto, è appena cominciato il match tra ragazzi dei Clippers e gli All Stars Big match in questa serie B-Summer, c'è un aspetto un match scoppettante, tutti amici, dunque, mazzate, garantite, buon calcio a tutti Del Gaudio, Sorbo Sorrentino, prova ad andare su Del Gaudio, Sorrentino con destro, diventa un assist per il Mago, che è solo di ora Subito occasione Palla buona per Sorbo che la aggancia, c'è un compagno in mezzo e invece Sorbo si fa in golosire, farà un calcio ad angolo per gli All Stars Oveppines Sai come posso prendere il gollo? In contropiede Eh? Alle 7 fa un video Alle 7? Fai un video Perché? Posto mio, no? Sì Va bene? Si Nel solo 1 era mio Attenzione Zurgolo! Palla fuori Bravo Fabio E' proprio bisogna stare attenti che questa può essere insidiosa, eh Sorbo, bello il lancio verso Sorrentino Prova in destro! Gargano Grande Mario Bravo Sorbo Tu sei Mario Mario Palla o Storno, sei ancora Prima! Zurgolo Prova a ripartire Zurgolo Stiamo tranquilli Palla per Sorrentino contro Zurgolo Chiede l'1-2 a Sorbo Lo tiene Sorrentino Palla per il Mago Sorbo! Palla fuori Se lo divora ancora Contropiede C'è Zurgolo Torna bene Piff Russo E allora Sorrentino Palla per Sorbo Allarga ancora per Russo Controllo non perfetto Allora Sellitto Palla per Ryan C'è Sbailò a sinistra Potrebbe servire ancora Ryan Per Sbailò Con il tacco Per Eudruge Palla fuori Bravo! 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 Gaudio anticipa Sorrentino Poi cede palla Sbailò In mezzo Poi palla per Sorrentino Se la lascia scorrere In verticale C'è Sorbo In mezzo Non riesce ancora A prendere la rete Ancora Sorbo Gargano Lunga Sellitto Vallo ci vallo ci vallo ci vallo ci vallo ci vallo Bravo Manno e ce l'hai Bravissimo Tessi Dumontee Salta l'avversario Dumontee Valla per Sorbo Triangolazione con Sorbo Dumontee Il vantaggio degli All Stars Triangolazione Dumontee Sorbo Che si riscatta con l'assist Vantaggio All Stars 1 a 0 Cambio ombrello Giammi Ma un cambio ombrello Un cambio ombrello Che questo qua per uno va bene Quello la per due Invece Ah sta pure Ciro Aaaaaaaaa Bucchinaro Sozzoso Quanto cazzo Piacciti Sorrentino C'è Sorbo che sale Sorrentino vuole mettersi in proprio Gargano Spinge Vai Mario vai Gargano è buono Poi Non passa Non passa Non passa Dai Vai Mario O c'ha Sorbo C'è anche Sorrentino in mezzo Sorbo 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 Bella azione C'è non lo vedo agile diciamo No no Però è di posizione Io ho girato spesso a 11 insieme Lo è bravo C'è nell'uno contro uno in marcatura Ti mangio Però quando acchiappa l'attaccante è tipo Mertensi Ah per farti capire Uomo Che parte da lontano Va in difficoltà giustamente Magari col centro avanti classico Lui piglia le misure Se lo mangio Se lo mangio Se lo mangio Però capicolo il problema è l'attaccante L'attaccante arabico è parte da fuori Giustamente C'è il Gaudio Sarti Uscio Sarti lo aspetta lì Fuori 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 Sellitto Sarti ancora Fuori 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 Sarti la tocca Perché l'arbitro deve essere condizionato mentalmente Ma che ci vai a fare addosso Ma non è vero Finisce qui il primo tempo 1 a 0 All Stars fist Parto la ripresa 1 a 0 per gli All Stars Goal di DuMonte Contri clip Speriamo questo match nella ripresa, che motrice cadrà. Bravi, bravi. Attenzione, c'è lo trucio solo. Papio, dall'inizio del torneo. Antone, passi indietro, Antone. Brava. Vai. Pala in mezzo. Oh, c'è Sorbo. C'è anche Dumonté a sinistra. Sorbo lo vede. Dumonté. Dumonté. Gargano. Super. Che scivola. Vai, vai, vai. Contropiede, 4 contro 2. Zurzolo perde il Gaudio. In mezzo, Viani. Poi Zurzolo. Ancora Dumonté, non è finita. Del Gaudio, ancora Sarti. Si salvano gli Ossarza, ma stanno rischiando grosso. Aviani, buona per Dumonté, la stoppa di petto. Venga, torna. Sorrettino. Con il destro. Assist di Dumonté, che glielo appoggia lì. C'è il gol di Mairitillo, 2-0. Palla persa da Sorrentino. Diventa buona per Del Gaudio. Allarga per Zurzolo, che la controllano perfettamente. Sarti. Cosa ha preso? Non fare fallo, bravissimi. Sorrentino, per Aviani che avanza. Guadagna terreno. Sellitto. Che aggancio di Sellitto. Poi Sorbo gliela ruba senza fallo. Gol d'attaccante esperto. Quello del mago Sorbo. 3-0, Stars. Non fare fallo, bravissimi. Sorrentino, per Aviani che avanza. Guadagna terreno. Sellitto. Che aggancio di Sellitto. Poi Sorbo gliela ruba senza fallo. Oh! Tira! Sorbo se ne va, che movimento! Che gol del mago! Festeggia nel miglior modo possibile il capocannoniere della Serie C Winter. E va a segnare. Gol del 4-0. Dove per 3 del mago? Sì, sì, sì. Come sei tu con quel piede? Sorrentino la tribella per Dumontè! Mario! Mario me lo fai rivedere? La prossima torna, che cazzo! Sorbo, Zurzo, che azione la sua! Si gioca, allora mago Sorbo. Allarga bene per Sorrentino. Di prima per Dumontè che salta Gargano! Sorrentino che assist per il mago vuole della tripletta. Invece altruisticamente serve Dumontè. Sorbo, palo! Da metri zero. Se lo divora questa volta. Non è sfortunato. Cazzo fa schiavo vicino. Non ci sta a giocare. Quanta agenza che puoi utilizzare? Un millisecondo. Quindi non sarebbe volso il gol. Palla già battuta! Zurzo, no! Sarti! Non si lascia cogliere in pre... Non vedo niente. Sorrentino, prova a partire. Ancora Sorrentino. Allarga per Sorbo. In mezzo. Ancora Sorrentino. Sorrentino resiste, Gargano! Dalla, Gargano! Siete fermati a loro, Ciro! Ma tanto, per favore, hai fatto i tuoi. Gargano già battuto. Poi del Gaudio? C'è Aviani che intercetta. Poi del Gaudio? Ma cosa fa così? Non lo sa. Sbalò in area di rigore! Sarti! Ancora! Occhio a Zurzo, 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 la ceduta del Gaudio, ancora Zurzo, Dumontè, palla per Sorbo, uno contro zero. Sorbo, Sorbo, Gargano super! Sorrentino, 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 incrocia col destro e segna il gol della vittoria. Siamo con Checo Aviani, migliore in campo di questo match, che gli Ostar s'hanno vinto. Punteggio abbastanza netto, finalmente, dopo un paio di giornate sotto tono avete ingranato. Qual è la ricetta che vi può condurre alla vittoria, se hanno detto? Sicuramente il giocare insieme sempre. Dopo due partite ci sta, abbiamo cominciato a capire come giocare, quindi adesso penso sia molto difficile per l'altra scuola. Sarà più incisiva la doppietta di Sorbo, l'assenza di Melucci oggi, questa vittoria. Ma... Diamo che l'hai chiesto una persona sbagliata. Ma Melucci ha bello, ha giocato bene insieme a Melucci, quindi... Si può fare a meno. Se rimane fuori va bene. Il presidente che ne pensa di questa vittoria della squadra? Quanto è finita? 5-1. Finiva 10-0. Bene così, bravi ragazzi, in bocca al lupo.